Ciao ragazzone qui sono Onigold e vi parlo oggi un nuovo video di Dragon Ball ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e di mettere mi piace e soprattutto questo. Vi presento Instant Gaming, uno dei migliori siti nella vendita di videogiochi online che ti permette di acquistare key dei giochi a prezzi super scontati, addirittura fila a 80% di sconto. Cosa aspettate? Andatelo a vedere, troverete il link qui sotto al video. Buona visione. Ok, iniziamo. Vediamo cosa dobbiamo fare oggi. Allora, vediamo le missioni. Vediamo evento insegnante, vediamo. È lungo comunque l'allenamento, madonna mia. Ah, Jack Rioli. Mi aveva detto che dovevo fare... forse mi insegnava delle nuove mosse. Vediamo. un cammino più veloce a piedi. Vediamo se c'ho anche nuova... no. Ok, questo mi ha già fatto tutto. Allora, forse per andare avanti dobbiamo fare questo. Ho capito. Tessi di avanzamento. Ok. Quando supero il test. Ok. Sì. Vediamo. Tessi di avanzamento principiante. Supero il test. PS. Ok. Proviamo. Oh. Eeeh, tu me va, eeeh, eeeh, ok poca roba no 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 dai che questo lo faccio fuori dai 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 ti mi sono distratto bello però 4 contro 1 vabbè bello anche una volta l'ho presa ah questa volta l'ho presa non ho energia e fuori due chi è il prossimo? avanti un altro lui lui madonna mia ecco infatti piccolino maletennente bastardino è il prossimo 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 è più ok avanti l'ultimo chi è quell'ultimo? non mi ricordo... uehh è ancora peggio L'altro non vinci Rilassa le spalle Una parola Preso, no? Si, preso Stroot Ah, quel lui va preso Ah, start down Rilassa le spalle Rilassa le spalle Rilassa le spalle Dai Non ti attendere Ok, piccola 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 Dai l'ultimo sforzo Bravo Così Sì, vittoria Anche se è un allenamento Ah no, è un esame Addirittura Che livello arriva 12 13 Attacco speciale Carica e dng Ok Oh, archivimente sbloccato Preparate a morire Eh, grazie Puoi scegliere Nuovi istruttori Vai a conoscere il nuovo istruttore E sfrutta le lezioni disponibili No Ok, andiamo da Krillin, no? Ehi Ti stavo aspettando Ti stavo aspettando Sembri molto più forte È il momento di segnare una tecnica Molto speciale Aspettiamo con l'ansia questo momento Ok Addestrami La c'è davanti a te Un'onda dell'aura Che poi Ah ok Mi ric... Staccavano di tosse Ehm 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 Ah, cool Escapato 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 un atto, manca tutti, come? Ancora? Oh madonna! Sto a ripigliarne due, niente, neanche un, madonna! Un atto, un atto, un atto, un atto! Un atto! Un atto Un atto Un atto a questa pared a questo Oh Dai, ne mancano due E carica nel giro Caricchiamo Oh 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 Ok Basta adesso Oh Un nuovo nemico, e chi è? Ah, lui Sono avvelenato invece Oh 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 Tarotto Oh, troppo! Ah... nooo ha 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 si stai crescendo davvero ah stai crescendo davvero Kamehameha è devastante ok ok ragazzi il video è finito e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao